allora buonasera ragazzi piccolo video per dirvi che lunedì sera ore 22 22 30 sul canale che vi lascio il link in descrizione faremo la live sui vaccini sul vaccino sui vaccini anzi farò la live sui vaccini vedrete cose che nei media e dei giorni sia giornali o telegiornali o comunque portali web italiani non avete mai visto e io non voglio condizionare nessuno nel senso non voglio dire non vaccinatevi o vaccinatevi o la mia opinione sapete bene come la penso sui vaccini a m rna ea dna o quindi anche a doppio vettore virale cioè astra zenica johnson and johnson sputnik questi vaccini qua la faremo su un canale che ho aperto quello vecchio come si dice quello che avevo aperto non riesco a collegarlo non so perché a stream yard quindi lo facciamo su un canale che ho chiamato creato di nuovo dal nulla si chiama soft bianco nero che in realtà era il vecchio canale ma youtube mi ha cancellato tutti i video e tutti gli iscritti non è che me ne fregava degli iscritti c'erano 30 iscritti però c'erano i video che avevo su quel canale che volevo volevo tenermeli insomma youtube ma ma fregato perché io l'avevo messo in sospensione il canale pensavo di poterlo recuperare invece no invece mi ha fregato allora lunedì ore 22 barra 22 30 link il canale quello nel link in descrizione ve lo lascio lì mi raccomando puntuali perché vedrete cose poi deciderete voi se crederci o non crederci per quelli che non si sono ancora vaccinati vaccinarsi o non vaccinarsi aspettare nuovi vaccini perché stanno uscendo di nuovi vaccini e niente questo è solo un video per ricordarvi della della live visto che in molti la stavate aspettando e stavolta non c'è niente che ci impedirà di farla perché il collegamento con strillard è già fatto quindi posso lunedì cascarsi al mondo noi facciamo la live sui vaccini ok buona cena a tutti e statemi bene